Ciao a tutti, oggi prepareremo i filoncini di pane. Il tempo di preparazione della ricetta è di 3 ore e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo manidoba, acqua, lievito di birra fresco, sale e miele. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, il lievito ed il miele. Ed azionare il bimbi per 3 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la farina, il sale e impastare in modalità spiga. Per 5 minuti. L'impasto è pronto o risulterà colloso. Trasferire in una ciotola infarinata, infarinare anche la superficie, coprire con pellicola trasparente e lasciare lievitare in forno spento con luce accesa per almeno 2 ore. Trascorso il tempo, l'impasto è ben levitato, trasferire su una teglia rivestita con carta da forno ed infarinata, aiutandosi con una spatolina. spolverizzare la superficie con dell'altra farina e dividere l'impasto in tre filoncini. distanziare delicatamente i tre filoncini. lasciare lievitare per 30 minuti in forno spento con luce accesa. trascorso il tempo, i filoncini sono ben lievitati, adesso li andremo a cuocere in forno preriscaldato statico a 230 gradi per 30 minuti circa. il pane è cotto, lasciare lievitare prima di servire. filoncini di pane, grazie e alla prossima ricetta! filoncini di pane, grazie e alla prossima ricetta! grazie a tutti! grazie a tutti! grazie a tutti!